Una cosa molto bella, molto importante nel tuo messaggio di solidarietà al centro Italia è che la squadra avrebbe fatto qualcosa anche di concreto se ci puoi dire qualcosa in più Ma sì, sicuramente adesso c'è bisogno di tanto in quelle zone lì perché ci sono tanti disagi quindi noi sicuramente appoggeremo un progetto per cercare di dare una mano con Fondazione Milan faremo un'iniziativa per dare le nostre maglie all'asta e per dare ricavato di esse in beneficenza per quelle zone Grazie